Io ai Veneti dovevo dare una risposta rispetto alla questione che ho posto. Loro tre non si ricandidano. Loro tre sono Gianluca Forcolina, vicepresidente della Giunta regionale, quindi vice di Zaia, Alessandro Montagnoli, presidente della prima commissione in consiglio regionale e Riccardo Barbisan, consigliere regionale. Per tutti e tre i leghisti la campagna elettorale per una riconferma a Venezia finisce qui. Il verdetto presidenziale, quindi per definizione inappellabile, è arrivato a quattro giorni dall'inizio della tempesta perfetta, cominciata con la fuga di notizie dall'Inps, tempesta che si è abbattuta senza pietà anche sui palazzi Balbi e Ferrofini. Storia recente, quella del bonus da 600 euro, che il governatore Veneto ha ripercorso, ricordando di essere stato il primo politico italiano a promuovere un'operazione verità. Quando io ho visto la famosa agenzia nazionale, domenica pomeriggio fosse accaduto, e leggo questa agenzia sibillina, nella quale si parla dei famosi cinque parlamentari, poi vedo e altri amministratori comunali e regionali, ho detto come regionali, cos'è sta roba? Ho subito, lasciatemelo che vi ricostruisca la storia, ho subito scritto a tutti i miei consiglieri, abbiamo la fortuna di avere una chat, ho chiesto ad ognuno, ho chiesto ditemi se avete mai percepito o ho richiesto un bonus, sì o no. Un out-out che ha portato all'immersione dei tre nomi e alle rispettive ricostruzioni. Tutti hanno avuto un colloquio con Zaia, che riconferma come la posizione di Forcolina sia diversa, ma che la premessa per la decisione sia stata la richiesta e non la ricezione effettiva del bonus. I cittadini partono da un presupposto, e il ragionamento è partito da un presupposto, dalla presentazione della domanda. Dopodiché, è pur vero, lo dico a quelli che mi hanno detto che io faccio i distingoli, li faccio sì, è pur vero che il vicepresidente non ha incassato il quantum, cioè non ha mai percepito il bonus e non ha neanche presentato ulteriori documentazioni per avere il bonus. Forcolina, peraltro, prima del verdetto, aveva comunque già rassegnato le dimissioni da vicepresidente e assessore, dicendo in una lettera aperta di aver preso la decisione a testa alta e di essere profondamente amareggiato per la violenza mediatica e la macchina del fango cui è stato sottoposto. Ad anticipare la decisione finale, anche Riccardo Barbisanna, sempre con lettera aperta, resta un posto vacante in giunta, ma Zaia non ha intenzione di riempire la casella. Non farò nessuna nomina perché lo trovo irrispettoso nei confronti di veneti a 40 giorni dalle elezioni a fare una nomina e le deleghe non so se le distribuirò, le tengo io oppure le distribuirò e si chiude questa vicenda dolorosa.